Ciao a tutti, bentornati, bentornate. In questo tutorial andiamo a realizzare una ruota dentata conica. Allora, realizziamo una ruota dentata conica abbastanza semplificata, ovviamente sarà parametrizzata, quindi possiamo variarla. Ho utilizzato sia i parametri della ruota motrice che della ruota condotta in modo da poterle accoppiare, perché ovviamente in questo caso l'accoppiamento tiene conto anche della posizione avendo a che fare con delle conicità. Non è particolarmente complesso, come vedete è un numero di operazioni abbastanza limitato, quindi le formule che andremo ad utilizzare, una quindicina di parametri ed un numero di formule, una ventina di formule all'incerca. Volevo farvi vedere invece una ruota dentata utilizzata, proprio quella industriale come deve essere realizzata, come vedete i parametri sono addirittura diminuiti, ma il problema sono le relazioni. Quindi per realizzare una ruota dentata conica, come vedete è fatta quasi del tutto in maniera matematica, sono necessarie più di 265 formule. La versione è semplificata, ma è comunque una ruota dentata e ovviamente la prima semplificazione che abbiamo fatto è di non utilizzare un evolvente per realizzare il profilo del dente. Potete farlo voi, conoscete come si realizza l'evolvente, lo abbiamo fatto in un esercizio precedente, quello con la ruota dentata ha denti dritti con profilo ad evolvente, quindi vedete se volete accoppiarli. Comunque questa, la ruota che andremo a realizzare, sarà sufficientemente precisa per le varie applicazioni. Quindi possiamo ad esempio andare a variare il numero dei denti, lo porterò a 50 e come vedete non solo varia il numero dei denti della ruota, ma varia anche la conicità. Partiamo! In shape design, generative shape design, andiamo a rinominare la nostra parte ruota dentata conica, è ok. Introduciamoci i primi parametri, allora il primo parametro sarà di tipo string, nuovo tipo di parametro che chiameremo tipo type, chiamiamolo in inglese type, che sa specificare il tipo di ruota, con valori multipli, andiamo ad aggiungere i valori multipli che saranno ovviamente il pignone e aggiungiamo poi la ruota condotta, chiamiamola semplicemente ruota. Il prossimo parametro sarà di tipo booleano, nuovo parametro, lo indicheremo con rotate, valori multipli, vero o falso, impostiamolo sul vero e applica. parametro successivo di tipo angolo, un nuovo tipo di parametro, lo indicheremo con s, con valore singolo ovviamente, e il valore che gli assegniamo sarà 90. Applica! parametro successivo di tipo lunghezza, nuovo tipo di parametro, che andremo a indicare con m, che rappresenta appunto il modulo e a cui daremo un valore di 4 mm, valore singolo, applica. Come al solito poi abbiamo un altro parametro di tipo angolo, nuovo tipo di parametro, che indicheremo con a, che rappresenta l'angolo di pressione, a cui assegniamo il solito valore di 20 gradi, applica. Quindi il parametro successivo sarà di tipo intero, nuovo tipo di parametro, assegneremo il valore z con 1, z con 1 e assegniamo un valore di 29 denti e applica. un nuovo tipo di parametro, sempre intero, che indicheremo in questo caso con z con 2 e a cui assegneremo un valore di 37 denti, applica. parametro di tipo lunghezza, che indicheremo con f e qui andremo ad assegnare un valore di 31,4, applica. ancora un parametro di tipo lunghezza, sarà il nostro h con a, e andiamo ad aggiungere una formula e lo facciamo pari al modulo m. parametro utente. parametro successivo, sempre di tipo lunghezza, sarà il dedendum, quindi h con d, andremo ad aggiungere la formula, dovrà essere pari ad 1 punto, mi raccomando, punto 25 moltiplicato per il modulo m, ok e ok, parametro successivo di tipo angolo, nuovo tipo di parametro, andremo ad indicare con pa1 e andremo ad aggiungere una formula perché dovrà essere pari all'arco tangente, quindi a tan, di aperta parentesi, z con 1, diviso z con 2, chiusa parentesi, ok, ok, nuovo tipo di parametro ancora angolo, lo andremo ad indicare con pa2 e andremo ad aggiungere la formula, dovrà essere pari a s meno pa1, ok, ok, parametro successivo di tipo lunghezza, lo andiamo ad indicare con un nuovo parametro che chiameremo pcd1, pcd1, andiamo ad assegnargli la formula e la formula dovrà essere pari al numero di denti z con 1, ok, moltiplicato per il modulo m, ok, parametro successivo di tipo angolo, lo andiamo ad indicare con as1 e assegnargli una formula, dovrà essere pari a s, s quindi diviso il numero di denti z con 1, è ok, parametro successivo lunghezza, nuovo parametro, lo chiamiamo pcd2 e gli andiamo ad assegnare una formula e la formula in questione sarà z con 2 moltiplicato m il modulo, ok, parametro successivo di tipo angolo, nuovo parametro, lo andiamo ad indicare con as2 e gli andiamo ad aggiungere la formula, dovrà essere pari ad s diviso il numero dei denti z con 2, è ok, allora, nuovo tipo di parametro, anche questo di tipo lunghezza, che andremo ad indicare con r maiuscolo e gli andremo ad assegnare una formula, allora dovrà essere pari a aperta parentesi pcd2 diviso 2, chiusa parentesi, diviso il seno di aperta parentesi, s meno pa1, chiusa parentesi, è ok, parametro successivo di tipo angolo, andremo ad indicarlo come AA e andremo ad assegnare una formula, quindi dovrà essere pari all'arco tangente, tanti, aperta parentesi, l'addendum h con a diviso r, chiusa parentesi, ok, è un altro parametro di tipo angolo di tipo angolo che indicheremo con DA e a cui assegneremo una formula, DA dovrà essere pari all'arco tangente, quindi a tan, di aperta parentesi, l'addendum h, il dedendum, pardon, hd diviso r, chiusa parentesi, è ok, applico e ok, e adesso ci possiamo spostare nel piano, quindi utilizzeremo il piano yz per realizzarci il nostro schizzo, allora lo schizzo sarà costituito da un profilo, un triangolo, quindi questa dovrà essere verticale coincidente con l'asse, coincidenza, quindi applica ok, e adesso ci possiamo spostare nel piano yx e andiamo a realizzarci un profilo, allora il profilo nel piano sarà costituito, diciamo, da un asse e poi avremo, allora utilizzeremo una prima linea che parte da questo punto diretta in questo modo ad esempio e un'altra linea diretta in questo modo con questo ce lo possiamo determinare e andiamo ad applicargli la formula e sarà pari ad r, ok, anche a questo possiamo applicare un valore e come definizio, pardon, come formula, modifica formula potremmo utilizzare pcd1 diviso 2, ok trasformiamole adesso in linee di costruzione e le cambieremo in seguito andiamo anche a derivarcele come future di emissione, la prima e la seconda ok realizziamoci adesso il profilo quindi avremo un punto evitiamo che si formino delle condizioni nessun tipo di condizione quindi il grafico il più generico possibile ma che abbia questo tipo di andamento con questi due elementi che possono essere orizzontali è l'unica condizione che possiamo accettare in questa fase quindi come condizione imponiamo che questo punto e questa linea siano coincidenti che questa linea e questa linea siano fra di loro ortogonali perpendicolari, ok che questa linea e questa linea siano altresì ortogonali, ok la distanza tra queste due linee sarà pari editiamo la formula ed avevamo f se non sbaglio era all'altezza del dente f, ok lo spessore della ruota 31,4, ok questa distanza quindi di questo punto da questo punto sarà rappresentata rappresentata da h con a ok e adesso prima linea di costruzione che parta dal vertice e raggiunga questo punto con queste due linee che dovranno essere fra di loro coincidenti e ok altra linea di costruzione che parta sempre dal vertice ed intersechi questa linea con la distanza di questo punto da questo che dovrà essere pari a modifica formula h con d il dedendum ok quindi abbiamo definito addendum e dedendum poi abbiamo bisogno di un'altra linea di costruzione che parta sempre dall'origine e arrivi a questo punto e dobbiamo fare in modo che questo punto e questa linea siano fra di loro coincidenti ok e l'altra considerazione questo punto e questa linea coincidenti ok sicuriamoci che anche questo punto e questa linea siano coincidenti coincidenti e ok quindi l'ultima condizione che avrei dovuto imporre che riguardava questa distanza dovrebbe essere ridondante perché dovrebbe essere pari a 4 più 5 moltiplicato per 2 addendum più addendum moltiplicato per 2 e come vedete è automaticamente fissata dalla geometria del sistema doveva essere pari a 18 come potete vedere 4 più 5 è 9 per 2 è 18 e quindi la possiamo tralasciare automaticamente fissata dalle altre condizioni comunque questa lunghezza complessiva doveva essere pari addendum più addendum il tutto moltiplicato per 2 e adesso introduciamoci tre punti di costruzione vanno bene quindi selezioniamo punto intersezione tra questa e questa ancora un punto di intersezione tra questa e questa e ancora un punto di intersezione tra questa e questa quindi qui abbiamo tre distinti punti ce li determiniamo sugli schizzi geometria questi tre punti 1 2 e 3 che trasformeremo in feature di emissione primo punto secondo punto e terzo punto erano già punti di costruzione ma per sicurezza li abbiamo trasformati in feature di emissione ci spostiamo nello spazio e nello spazio utilizziamo un altro schizzo però schizzo con posizionamento sul piano orizzontale quindi vogliamo che h e v siano fra di loro invertiti in modo da avere il nostro schizzo posizionato in questo modo ok e abbiamo bisogno adesso di tre circonferenze questa sarà la prima circonferenza una seconda circonferenza più interna e poi avremo bisogno di un'altra circonferenza che sarà di costruzione che sarà la seguente quindi queste tre circonferenze dovranno essere questa circonferenza e questo punto dovranno essere coincidenti ovviamente la loro coincidenza sarà nel piano ok questa e questo secondo punto dovranno essere fra di loro coincidenti e questa e questo punto dovranno essere fra di loro coincidenti ok ci spostiamo quindi l'abbiamo posizionato esattamente in questo modo e adesso abbiamo bisogno di una circonferenza generica non di costruzione quindi comunque disposta evitiamo che ci siano delle condizioni e possiamo innanzitutto andare a relimitare quindi la circonferenza rispetto a questo elemento e andiamo a relimitare questo tratto rispetto a questo abbiamo poi bisogno del punto di intersezione ce lo trasformiamo in un punto di costruzione tra questa e questa quindi questo punto per il dente non tracceremo l'evolvente utilizzeremo una trattazione semplificata in cui andremo a giustamente i punti sono due andremo a valutare la distanza di questo punto dall'asse ok per questo andremo ad editare una formula modifica formula questa sarà pari al modulo m moltiplicato per 0 punto 785 e ok ancora la distanza di questo punto da questo direzione di misura orizzontale dovrà essere pari ad m diviso 2 ok è l'ultima distanza in termini di punti di questo da questo misura di orizzontale editiamo una formula e dovrà essere pari ad m quarti quindi modifica formula m diviso 4 è ok abbiamo definito in questo modo il profilo del dente quindi adesso utilizziamo un'asse che parta dall'origine sia comunque diretto che andremo a specchiarci rispetto a questa linea e andiamo a calcolare questo angolo come formula modifica formula utilizzeremo AS1 moltiplicato per 4 ok andiamo a raccordarci questo tratto ovviamente non è una linea di costruzione e andiamo ad editare una formula mettiamola dove si vede e andiamo ad indicare pari al modulo m moltiplicato per 0,3 0,3 0,3 ok specchiamoci questo e il raccordo rispetto ovviamente a questo andiamo a relimitare questo elemento rispetto a questo e andiamo a relimitare questo rispetto a questo e l'ultimo passaggio andiamo a tagliare questo e automaticamente viene tagliato rispetto ai due assi quindi questo è l'elemento che ci interessa che rappresenterà il nostro schizzo qua viene indicato come numero 3 proprietà io lo indicherò come schizzo numero 2 e ok quindi profilo determinato ci spostiamo nello spazio ok abbiamo lo schizzo 1 e lo schizzo 2 schizzo composizionamento adesso abbiamo bisogno di un altro schizzo sarà un normale schizzo sempre sul piano verticale il seguente e lo otterremo semplicemente proiettandoci questo elemento quindi questo sarà lo schizzo allora per motivi proprio di coincidenza di disegno lo chiamerò come schizzo numero 3 ok applica e ok e quindi adesso ci spostiamo nello spazio e richiamiamo il comando rivoluzione rivoluzione di questo elemento l'asse di rivoluzione sarà l'asse dell'ez e l'angolo sarà di 360 gradi se adesso selezioniamo il nostro primo schizzo 2 non facciamo altro che proiettarlo andiamo a proiettare secondo una direzione e come direzione come riferimento ovviamente scegliamo questo e come direzione scegliamo l'asse dell'ez anteprima e ok quindi ci siamo proiettati nel nostro schizzo su questa superficie e adesso molto importante richiamiamo un comando questo il comando scala con il comando scala come elemento sceglieremo la proiezione come riferimento sceglieremo questo punto come rapporto sceglieremo 0.5 quindi quello che abbiamo fatto è creare un profilo in scala partendo dal nostro profilo lungo questa direzione che presenterà quindi una dimensione che è pari alla metà di quella del profilo iniziale e ok adesso abbiamo due distinti profili quindi possiamo utilizzare il comando superficie multisezione quindi le due sezioni sono proietta scala come dorsale come spline scegliamo la seguente e diamo l'ok mettiamoci in condizioni di sicurezza utilizzando il comando estrapola andiamo ad estrapolare la proiezione come elemento estrapolato avremo questo come dimensione possiamo lasciare 10 la condizione che utilizzeremo sarà quella di curvatura e ok dell'elemento estrapola ci andremo a creare una matrice circolare allora corona completa ovviamente per le ricorrenze modificheremo la formula e utilizzeremo il numero di denti pari a z con 1 ok come di riferimento utilizzeremo l'asse z e diamo l'ok siccome matrice circolare ed estrapola sono due elementi distinti li selezioniamo entrambi e li uniamo e ok allora andiamo a nasconderci innanzitutto la rotazione ci nascondiamo la proiezione ci nascondiamo anche la scala l'unione no questo lasciamo tutto attivo questo la possiamo chiudere nascondi visualizza sì matrice circolare no quindi matrice circolare accesa questo che cos'è questo è lo schizzo 2 lo possiamo nascondere ok possiamo spostarci in mechanical design par design in par design andiamo a considerare lo schizzo 1 questo quindi non facciamo altro che spostarci nello spazio e utilizzare il comando albero applicato allo schizzo numero 1 e ok non ci resta che utilizzare il comando taglia andremo a tagliare l'unione nell'altra direzione e ok nascondiamo l'unione nascondi visualizza ed ecco realizzata la ruota dentata assicuriamoci che funzioni quindi interveniamo sui parametri ad esempio questo è fisso come vedete proviamo a modificare il modulo mettiamo un modulo pari a 3 vediamo che cosa succede chiudi aggiorna un po' Grazie a tutti.